Allora, l'obiettivo di oggi è quello di vedere assieme alcuni cenni di statistica descrittiva che ci saranno poi utili nel momento in cui dovremo andare a visualizzare dei dati. Assieme alla scorsa lezione, quella sulle misure e sulle scale di misura, questa è un'altra lezione abbastanza teorica, non molto applicativa, però è necessaria per avere una conoscenza omogenea di alcuni argomenti fondamentali. Cosa si intende per statistica descrittiva? È una disciplina che ha l'obiettivo di andare a descrivere in maniera quantitativa le caratteristiche principali di una serie di dati o collezione di informazioni. Quindi l'obiettivo è sintetizzare i dati. La strategia descrittiva si differenzia da quella che viene chiamata inferenziale perché ha come unico obiettivo quello di descrivere e non di andare a estrarre delle caratteristiche, trovare delle relazioni nei dati. Abbiamo diversi tipi di statistiche descrittive che ci danno diverse informazioni. Innanzitutto, la prima informazione che noi dobbiamo conoscere su un insieme di dati è il tipo o, se volete, la scala. Il passo successivo è quello di andare a capire in estrema sintesi come sono fatti. Quindi parliamo di posizione o tendenza centrale e di dispersione. Successivamente si parla di distribuzione o di forma. Queste sono le principali caratteristiche che una statistica descrittiva mira a fornire. Quando parliamo di tipo possiamo pensare al tipo di una variabile. Nel caso più complicato il tipo può essere un'immagine. Cosa possiamo fare con un'immagine? E' molto difficile fare un'elaborazione o ordinare delle immagini. Il passo successivo potrebbe essere del testo. Se io ho del testo che elaborazioni posso andare a fare oltre a leggerlo e capire cosa vi dice? Anche qui ho alcune difficoltà. Posso sicuramente elaborarlo, processarlo, ma ho delle difficoltà a fornire con pochi numeri una descrizione. Successivamente andiamo a parlare di valori che possono essere il risultato di una misura. E qui ci sono due grosse categorie. abbiamo dei dati discreti e dei dati che invece sono continui. Che corrispondono grosso modo alle diverse scale di misura che abbiamo visto la volta scorsa. Quindi quando parliamo di dati discreti normalmente facciamo riferimento a dati che sono o nominali o ordinali. Nominali quindi dati che semplicemente identificano delle categorie, delle classi ordinali sono dei dati che sono in grado di andare a definire un ordine. Quindi abbiamo qualcosa che è più grande viene dopo di qualcos'altro. Nella categoria nominale spesso un caso a parte è rappresentato da le categorie nominali con esclusivamente due valori due categorie due classi che vengono chiamate binomiali dicotomiche booleane sono particolari perché che sì, no vero, falso abbiamo un caso molto semplice di categorie nominali. Nel caso continuo abbiamo le tre scale viste la volta scorsa quindi la scala intervallo ratio e la scala assoluta con le categorie che non sono semplici classi ma sono misure. Queste tre scale hanno i limiti che abbiamo visto la volta scorsa hanno delle trasformazioni ammissibili e hanno delle proprietà che ci permettono di svolgere alcune operazioni piuttosto che altre. proviamo a fare una misura di una variabile dicotomica. per fare questo chiedo la vostra collaborazione alzatevi in piedi e poi definiamo una variabile dicotomica che distingue la classe di studenti che segue il corso in ingegneria informatica rispetto a chi segue altri corsi di studi quindi quelli di voi che seguono il corso di studi in ingegneria informatica si alzino e vadano alla mia destra quelli che seguono altri corsi si alzino e vadano alla mia sinistra a Grazie. 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 Quando siete davanti in foto, urlatelo ad alta voce, così lo scrivo. 44. Allora, 44. In fila per 3. 36. 37. E 37. Siete quasi... Normalmente le variabili dicotomiche sono utili per avere un'idea. In questo caso sappiamo che circa la metà dei presenti segue ingegneria informatica. Gli altri seguono altri corsi di laurea. Non andiamo oltre, perché altrimenti ci complichiamo la vita. Ma molto spesso è utile andare a vedere la relazione tra variabili dicotomiche. Per cui, un'altra variabile dicotomica potrebbe essere chi conosce approfonditamente l'HTML e chi invece no. Adesso non vi chiedo di scambiarvi perché sennò vi ammazzate, ma vi dividervi ancora a metà. Quindi, chi conosce o pensa di conoscere bene l'HTML, insomma, bene vuol dire è in grado di scrivere una pagina HTML ragionevolmente, si sposta verso di me, mentre invece chi pensa di non conoscerlo molto bene, quindi diciamo non è in grado di scrivere una pagina HTML, si sposta verso il fondo dell'aula. Mamma mia! quindi HTML, non HTML, informatici, non informatici. Quindi gli informatici che pensano di conoscere bene HTML sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ok. Gli informatici che invece conoscono l'HTML, ma magari non bene, sono il resto, ragionevolmente 34, se non si è aggiunto o tolto qualcuno. Tra i non informatici, chi pensa di conoscere bene HTML sono 1, 2, 3. E chi non conosce l'HTML sono i restanti, quindi 37, meno 3. Ok, quindi sui non conoscitori di HTML siete pari. Quindi anche questo è un altro modo di andare a prendere due variabili e metterle assieme. a volte la statistica descrittiva è utile per andare a vedere la correlazione. Prima di proseguire, setevi pure. Quando parleremo di diagrammi più comune, complessi andremo nel prato a disporci secondo qualche schema predefinito. Allora, la prima cosa che può aver senso fare quando abbiamo a che fare con delle variabili è sommarizzarle, dare pochi numeri che le descrivano. un esempio di numeri più o meno casuali, ma non tanto. Il numero di gol fatti da ogni squadra di serie A nello scorso campionato più o meno in questo periodo, quindi al fine febbraio. Quindi abbiamo le squadre di serie A e abbiamo il numero di gol fatti. A vederli così è difficile andarli a quantificare e ad avere un'idea. un modo un po' più semplice di andarli a descrivere è quello di metterli dentro un grafico come questo. Questo è un grafico a striscia, si chiama anche strip chart. Come viene fatto? Allora, è ovvio, noi abbiamo un'asse, abbiamo un'unica serie di numeri, quindi ci basta un'asse, e andiamo a mettere dei puntini, dei simboli, in corrispondenza del valore di ciascun numero che compare nel nostro insieme di dati. Visto che quei numeri erano interi, è improbabile che più dati abbiano lo stesso valore. Se io facessi questa operazione su una retta, i dati che hanno lo stesso valore verrebbero esattamente uno sopra l'altro. Se i numeri non fossero interi ma fossero dei numeri reali, sarebbe molto probabile che più dati siano parzialmente sovrapposti. Per cui ho un problema, questo tipo di problema si chiama overplotting. Nel senso che se ho due dati esattamente sovrapposti, o comunque abbastanza sovrapposti da non essere distinguibili, vengono scritti uno sopra l'altro e quindi io non riesco ad accorgermi che in realtà i dati sono più di uno. In questo caso, per risolvere il problema dell'overplotting, cosa faccio? Quando ho due numeri, quando ho due dati che hanno lo stesso valore, il secondo non lo metto esattamente sopra l'altro ma su una retta sopra, parallela. Per cui, ad esempio, qui così ho tre numeri che hanno lo stesso valore. Qui ne ho altri tre, qui ne ho due, qui infine ne ho due che hanno come valore 52. Questo, per una rappresentazione grafica, sarebbe bello poter sintetizzare ancora di più questi dati. Il primo modo di andare a sintetizzare un insieme di dati è quello di andare a dire dove sono centrati. Cioè andare a riportare quella che si chiama la tendenza centrale o location, posizione. Ci sono quattro modi principali di andare a descrivere la posizione di un insieme di dati. Moda, mediana, media e midrange. La moda, non nel senso di fashion, ma nel senso di concetto statistico, è il valore più comune. Noi vediamo in questo caso che in realtà il valore più comune non è uno. Ce ne sono due, il 24 e il 25, che troviamo tre volte ciascuna. Quindi, per calcolare la moda è molto semplice. Per ogni possibile valore vado a vedere quante volte quel valore compare nel mio insieme di dati. Quella è la frequenza. Vado a vedere quale valore o quali valori hanno la frequenza più alta e, di conseguenza, trovo la moda. Quando ho più di una moda, normalmente dico che il mio insieme di dati è multimodale. Per cui la moda va bene fino a un certo punto perché potrebbe non essere un numero solo. Qui ne abbiamo trovati due, ma potrebbero anche essere tre, quattro, cinque. Ok? Non ho nessuna garanzia sul fatto che la moda sia un numero solo. La moda, se ricordate, è quel valore che io posso andare a calcolare con qualunque tipo di dato, con una misura raccolta su una qualunque scala. la moda è ingegneria informatica. Ok? Abbiamo due possibili valori, informatica o non informatica. Quello che ha la frequenza più elevata è informatica. Quindi quella è la moda. Quindi la moda la possiamo calcolare su qualunque tipo di variabile. il passato successivo è quello di calcolare la mediana. La mediana può essere calcolata non su valori nominali, ma su valori che possono essere quantomeno messi in ordine. Quindi la mediana, se vogliamo dare una definizione precisa, è quel valore che sia più grande o uguale di metà dei valori che più piccolo o uguale a metà dei valori che stanno nel mio insieme. Metà dei valori sono minori o uguali della mediana e metà dei valori sono minori o uguali o maggiori o uguali della mediana. Come faccio a calcolarlo praticamente? Devo fare due operazioni. Uno, mettere in ordine i miei numeri. Dico numeri, ma in realtà potrebbero anche essere valori. Immaginate i voti nel sistema anglosassone che vanno da A ad F. C'è un ordine, che è l'ordine alfabetico, che corrisponde anche all'ordine di valore del voto. In una classe avrò un certo numero di A, un certo numero di B, un certo numero di C, eccetera. Quindi cosa faccio? Prendo tutti quei valori e li ordino. A, 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 B, B, C, 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 D, E, F. E poi vado a prendere l'elemento che sta esattamente a metà di questa sequenza. quello è il valore mediano. Il valore a metà io lo posso trovare se ho un numero dispari di elementi nel mio insieme. Se ho un numero pari, non ce n'è uno, ce ne ho due che stanno in mezzo. Cosa faccio? Se i miei valori sono numerici, ho una soluzione. Se i miei valori non sono numerici, quindi ad esempio i voti da A ad F, immaginiamo di avere i due numeri centrali, i due voti centrali che sono B e C, in quel caso lì la mia mediana non è unica, o se vogliamo è da B a C, che in realtà non è un valore dell'insieme di partenza. Se invece è numerico, per convenzione è il valore che sta a metà tra i due numeri. Nel caso specifico del numero di gol delle squadre di serie A, la mediana, la vediamo rappresentata qua, è 26. Ci sono lo stesso numero di squadre che hanno un valore minore o uguale, e lo stesso numero che ha un valore maggiore o uguale. quindi 50% dei valori stanno da una parte e 50% dei valori stanno dall'altra. Un altro modo di andare a dire dove sono centrati i miei valori e tramite quello che si chiama il midrange. Il mio midrange è il valore che sta a metà del mio range, cioè a metà tra il minimo e il massimo. Quindi è il minimo più massimo diviso 2. Nel caso specifico è 32. Questo vuol dire che la larghezza dei miei, dell'estensione dei miei dati sta metà a sinistra e metà a destra. Attenzione che questo è diverso dalla mediana, perché la mediana mi dice che metà dei valori sta da una parte e metà dei valori sta dall'altra. Qui posso avere più valori da una parte e più dall'altra, non importa. A me interessano soltanto gli estremi. Altro modo di andare a definire qual è la posizione in cui sono centrati i miei dati è la media, che è calcolata come la somma dei valori divisa per il numero dei valori stessi. Ci sono diverse interpretazioni della media. Una geometrica è quella che la media in realtà divide il mio insieme di valori in due gruppi, tali per cui la somma delle distanze è uguale. Quindi avevamo 26, anzi 24 e 25 le due mode, 26 la mediana, 32 la midrange e 31,35 la media. Questi sono i quattro modi principali con cui possiamo andare a dire dove sono centrati i nostri dati. In realtà ce ne sono anche altri. La media geometrica, la media armonica. Per cui non sono solo quelli. Un modo per andare a valutare l'utilità di un modo di misurare la tendenza centrale rispetto a un altro e valutare quella che si chiama la robustezza. Normalmente la robustezza viene valutata in base a come quel valore di tendenza centrale e cambia con la presenza di un outlier. Che cos'è un outlier? È una misura stramba, fuori dal normale, che sostanzialmente rappresenta un valore anomalo. Normalmente è un valore molto distante dagli altri, è un qualcosa che molto spesso è dovuto a un errore. Quindi l'idea di base è, se io nei miei dati butto per caso un valore che non c'entra nulla, la mia tendenza centrale varia di tanto oppure no? Vi faccio un esempio. Abbiamo John e Jane. John è il tipico studente che cerca di faticare il meno possibile, basta arrivare alla sufficienza. All'inizio dell'anno scolastico è partito con un 7, poi è andato avanti con dei 6 e, in un certo compito, botta di fortuna, ha preso un 10. Jane invece si impegna e anche lei inizia con un 7, poi un 8, un 7. Nello stesso compito in cui John ha preso 10, lei per somma sfortuna ha preso un 4. Però ha recuperato perché il compito successivo ha preso un 9. Ora, qual è il modo migliore di andare a dire dove sono posizionati i voti di John e di Jane? questi sono un po' di valori. Moda, mediana, media, midrange e media geometrica. Allora, la moda nel caso di John è 6 e nel caso di Jane è 7. Quindi potrebbe essere un buon modo. La mediana è esattamente la stessa. Se andiamo a vedere la media è 7 per entrambi. Se andiamo a vedere il midrange è 8 per John e 6,5 per Jane. Se andiamo a vedere la media geometrica è 6,9 per John e 6,8 per Jane. Allora, giusto per fare qualche ragionamento così, vediamo, se andiamo a vedere il midrange, come quel 10, o il 4 se preferite, hanno modificato gli estremi minimi massimi e quindi hanno influenzato pesantemente questa misura di tendenza centrale. Quindi quel valore mi ha spostato molto quello che è il midrange. Quindi il midrange in realtà non è molto robusto, perché se nei miei dati per puro caso ne sparo uno altissimo, grandissimo, molto piccolo, il midrange si sposta immediatamente perché segue il minimo e il massimo. La media tiene conto un po' di tutti i numeri, ma anche questa è molto sensibile a valori che sono molto grandi e molto piccoli. In effetti vediamo che mentre intuitivamente diremmo che Jane va tendenzialmente meglio di John, la media è uguale. Perché? Perché quel 4 ha penalizzato molto Jane e quel 10 ha avvantaggiato molto John. Quindi in generale la media è abbastanza sensibile agli outlier. Quindi se i nostri dati non sono disposti in maniera più o meno uniforme, ma abbiamo alcuni valori molto grandi e molto piccoli, la media rischia di spostarsi molto e seguire questi valori outlier. Quello che si sposta poco con gli outlier sono sicuramente la moda e la mediana. Sulla moda capite che se io mettessi invece di un 10, un 30 o un 60, la moda non cambia minimamente. La mediana di nuovo va a vedere qual è il valore che sta a metà, per cui metà dei voti sono maggiori o uguali e metà dei voti sono minori o uguali. Quindi anche la mediana è molto poco sensibile agli outlier. Viceversa, se io vado a modificare un po' di valori qui e là, se io nel caso di John invece dell'ultimo 6 mettessi un 5, la sua mediana non cambia. Quindi la mediana è sicuramente più robusta rispetto agli outlier, ma è molto meno sensibile ai valori individuali. Quindi, che cosa uso per andare a descrivere la tendenza centrale dei miei dati? Dipende. Magari ne uso due o tre di questi indicatori. Fate un esperimento. Dovete comunicare il risultato con un solo sms o con un tweet. Quindi avete un numero limitato di caratteri. Dovete dare un paio di numeri. E quindi andate a scegliere quelli che meglio caratterizzano i vostri dati. Oltre alla tendenza centrale, ragionevolmente dobbiamo anche sapere se i nostri dati sono tutti lì oppure sono molto dispersi. Per cui si parla di dispersione. Per la dispersione anche qui abbiamo diverse possibilità. Abbiamo il range, l'interquartile range, il median absolute deviation, la varianza e la deviazione standard. Vediamoli uno per uno. Il range è la differenza tra massimo e minimo. Questo mi dice quanto distano i due estremi. 12,52. Io qui vi ho riportato il mid range, cioè il valore che sta a metà del range. Perché ha senso avere il range rispetto a quello che sta a metà. Oltre al range abbiamo tutta un'altra serie di valori che possiamo chiamare quantili. Un quantile divide il mio insieme di valori in gruppi in base alla loro frequenza o probabilità. il quantile del valore della percentuale P di x grande, dove x grande è l'insieme dei nostri dati, è uguale a x. Se l'insieme di valori di x, che sono minori del nostro quantile, fratto il numero di valori, è minore o uguale della percentuale che stiamo dicendo. E l'insieme di valori che sono maggiori o uguali del nostro quantile, diviso il numero di valori totali, è maggiore o uguale di P. Se voi mettete P uguale al 50%, questa è la definizione di mediana. Ho il 50% di valori che sono più grandi o uguali, e il 50% di valori che sono più piccoli o uguali. Quindi, invece della mediana, è un valore in cui, invece di mettere il 50%, metto 25, 10, 15, 95, eccetera. Tra i vari quantili, normalmente, quelli che vengono citati sono quelli che si chiamano i quartili, che sono dei quantili che mi dividono il mio insieme di dati in quattro gruppi. Per cui, sono il quantile che corrisponde al 25%, quello che corrisponde al 50%, che è anche la mediana, e quello che corrisponde al 75%. Riportato sul grafico, noi vediamo che la mediana è il secondo quantile che abbiamo detto essere 26. Il quartile numero 1 corrisponde invece a 24. Un quarto dei valori è minore o uguale di 24. Un quarto dei valori sarà tra 24 e 26, un altro quarto dei valori sarà tra 26 e 40, e un ulteriore quarto dei valori sarà tra 40 e il massimo. Quindi, questo mi dicono dove stanno i punti importanti dei miei dati. Per cui, so che un quarto delle squadre ha segnato più di 40 gol. A questo punto, i quartili sono tanti numeri, non sono solo uno. Volendo dare un unico numero che mi caratterizza quanto i dati sono dispersi, posso utilizzare quello che si chiama l'interquartile, che è sostanzialmente la distanza tra il quartile 1 e il quartile 3. e, in pratica, l'intervallo in cui cadono la metà centrale dei valori. Quindi, abbiamo detto che un modo è il range. Un altro modo è questo che abbiamo chiamato interquartile range. Un altro modo ancora è quella che si chiama MED, Median Absolute Deviation, che è la mediana delle distanze assolute di tutti i valori dalla mediana. Sostanzialmente mi dice quanto i singoli valori sono distanti dalla mediana. Prendo tutte queste distanze e ne calcolo la mediana. Questo è un altro modo di andare a dire quanto sono dispersi i valori. Poi ricadiamo nella statistica solita la varianza, che è la media dei quadrati, delle distanze, dei valori dalla media, che essendo una somma di quadrati ovviamente è sempre positiva, e la deviazione standard, che è la radice quadrata della varianza. Attenzione che mentre la varianza sostanzialmente è un quadrato di valori, di distanze, è difficile da andare a confrontare con la media, la deviazione standard, almeno dimensionalmente, è uguale alla media. E quindi io posso andare a confrontare la deviazione standard con la media. Quindi, nel caso specifico, abbiamo 10,8, che è la deviazione standard dei miei goal, rispetto alla media, che è 31,3. Molto spesso usiamo i valori assoluti, ma talvolta è comodo andare a parlare di dispersione normalizzata. un modo abbastanza comune di andare a normalizzare la dispersione è quello di dividere la misura di dispersione per la misura di tendenza centrale. Quindi, nel caso specifico, vado a dividere la deviazione standard per la media. mi dà un... se mi passate il termine non è esattamente questo, ma una percentuale di variazione attorno alla media. se abbiamo detto che la deviazione standard era... cos'era, 30? no, la media era 30 la deviazione standard adesso non lo ricordo. Se io faccio la divisione ottengo in percentuale quante è larga, quante è grande questa dispersione rispetto alla mia media. giusto per darvi un'idea queste sono le misure di tendenza centrale dispersione e dispersione normalizzata. Se andiamo a vedere media e direzione standard eccolo qua la media è 31 la dispersione è 10 0,24 la mediana e la median absolute deviation abbiamo 26,7 quindi 0,29 mediana e range interquartile 26,16 quindi 0,62 e mid range e range abbiamo 32 abbiamo 40 abbiamo 1,25 se andate a osservare questa dispersione normalizzata tra media tra standard deviazione standard e media absolute deviation e mediana vedete che i valori sono abbastanza simili 25,30% pur essendo i singoli valori non proprio uguali quindi un modo per andare a descrivere un insieme di dati è quello di andare a fornire la tendenza centrale e la dispersione oltre a questa coppia di numeri che se vogliamo sono molto sintetici a volte si usa quello che è un sommario a 5 numeri che corrisponde a in realtà 5 quartili allora il quartile 1 2 e 3 l'abbiamo visti prima il quartile 1 corrisponde al 25% il quartile 2 corrisponde alla mediana 50% e il quartile 3 corrisponde al 75% se aggiungo anche il Q0 e il Q4 che corrispondono allo 0% cioè al minimo e al 100% ovvero al massimo ho i miei 5 numeri quindi nel caso specifico i 5 numeri che sintetizzano i dati che abbiamo visto prima sono 12 che è il minimo 24 che è il primo quartile 26 che è la mediana 40 che è il terzo quartile e 52 che è il massimo quindi con questi 5 numeri ho descritto come sono distribuiti i miei valori possiamo vedere come il quartile 1 e il quartile 2 sono molto vicini quindi ci sono molti gol tra 24 e 26 molte squadre che hanno fatto tra 24 e 26 gol un quarto e poi nella parte alta dal 26 fino al 52 invece i valori sono più distanziati questi 5 numeri di solito sono anche visualizzabili in maniera grafica tramite quello che si chiama un box plot il box plot rappresenta con il box il primo il secondo e il terzo quartile dove il secondo quartile e la mediana è quella linea più spessa e i due baffi sopra e sotto rappresentano il primo e l'ultimo quartile quanti di voi avevano già visto un box plot 15% allora chi ha visto un box plot si alza e va sulla destra no sto scherzando quindi sostanzialmente quella visualizzazione lì mi permette di andare a sintetizzare in maniera grafica qui cinque numeri se confrontiamo il box plot che abbiamo qua con lo strip chat che abbiamo sopra sicuramente il box plot è più sintetico perché lo strip chat riporta tutti i dati e forse più di immediata comprensione però ci sostanzialmente ci nasconde alcuni dettagli ok noi non sappiamo guardando il box plot esattamente dove sono messi i valori ad esempio questo gruppo di tre squadre che sono tra 40 e 50 nel box plot noi non riusciamo a vederlo vediamo che c'è un quartile grosso modo tra il 40 e il massimo che è 52 ma non vediamo i valori effettivi il vantaggio del box plot è che è facile a disegnare a mano con un righello e conoscendo i numeri lo posso disegnare in effetti i box plot sono stati pensati un po' di anni fa quando la grafica al calcolatore non era così comune e se avevo bisogno di fare un grafico di solito lo facevo a mano per cui con poche linee riesco a farlo mi basta avere i cinque numerini di sintesi andare a disegnare uno strip chart a mano è molto più complicato soprattutto se i numeri sono tanti in termini di utilizzabilità dei vari valori abbiamo visto che la moda la possiamo utilizzare per qualunque tipo di variabile la mediana la possiamo utilizzare se abbiamo dei valori che siano almeno ordinali la media e midrange ovviamente solo su variabili continue in generale quando noi facciamo delle misure stiamo facendo quello che si chiama un campionamento quando prima abbiamo visto quanti di voi seguono il corso di ingegneria informatica e quanti non lo seguono abbiamo fatto un campionamento rispetto a tutti gli iscritti al corso ci sono degli studenti che non sono qua oggi e quindi quelli non potevamo misurare questo è un dato è un caso che succede sempre è difficile riuscire a misurare tutto per problemi di complicazione degli strumenti per problemi di costi di opportunità di tempi vi faccio un esempio molto evidente come faccio io a misurare il tasso di occupazione o disoccupazione telefono a tutti i cittadini italiani e gli chiedo cosa fanno è un po' complicato il tasso di disoccupazione viene misurato dall'istat con un campionamento seleziono un po' di persone a caso ma neanche troppo in modo che siano rappresentative della popolazione italiana vado a chiedere a queste per un annetto circa periodo in cui restano nel campione le loro condizioni anzi per semplificare di solito vado a intervistare una persona per famiglia e chiedo le informazioni su tutti i componenti del nucleo familiare questo ovviamente va a intercettare anche persone che hanno meno di 15 anni che quindi non rientrano nelle statistiche però ovviamente uso un approccio semplificato mi costa meno tempo mi costa meno denaro e tutto sommato mi dà una risposta ragionevolmente accurata l'obiettivo comunque è quello di andare a valutare delle caratteristiche di quella che è la popolazione generale io misuro il tasso di disoccupazione perché quella è una stima di quello che è lo stato di occupazione e disoccupazione della popolazione generale italiana quindi in generale uso un campione misuro qualcosa in un campione per andare a stimare un valore della popolazione generale se andiamo a parlare di tendenza centrale e dispersione è bene fare una distinzione tra media e deviazione standard della popolazione che è un qualcosa che io voglio stimare e media e deviazione standard del mio campione che io posso andare a utilizzare per stimare quelli della popolazione generale ma per l'appunto sono delle stime come faccio a fare la stima beh sulla media spero di aver scegliato spero che la media del mio campione sia sostanzialmente in linea con quella della mia popolazione e quindi la stima della media della popolazione è uguale alla media del campione la percentuale di persone che lavorano nel campione dell'istat è suppongo che sia uguale alla proporzione di persone nella popolazione generale italiana che lavora per quanto riguarda la deviazione standard la stima della deviazione standard nella mia popolazione è leggermente diversa dalla deviazione standard del mio campione allora questo che vedete la s a destra è la deviazione standard della popolazione ovvero la radice quadrata della media delle differenze quadratiche dei valori dalla media la stima in realtà è un valore leggermente più grande di questo perché invece di dividere per n divido per n meno 1 tutto questo funziona perché praticamente si è visto che quel fattore di correzione va bene su una popolazione che ha una distribuzione normale a campana peccato che le distribuzioni normali siano comuni ma non così tanto e quindi si usa quella stima comunque sperando di azzeccarci quindi tendenza centrale e dispersione sono delle misure che ci danno un'idea di come sono messi i nostri dati tuttavia sono due numeri su un campione che magari ne ha 10 20 100 1000 quindi perdiamo dell'informazione ci danno una descrizione soltanto parziale un esempio ce l'abbiamo andando a vedere quello che si chiamano i quartetti di Hanscom Hanscom era un statistico che giocando con i numeri ha provato a trovare delle serie di coppie x y piccoline con 11 valori ciascuno 11 coppie ciascuno che avessero tutte queste caratteristiche la media dei valori x sempre 9 la varianza dei valori x sempre 11 la media dei valori y 7,5 la varianza dei valori y 4,1 perché proprio quei valori lì l'aveva sognati la notte non c'è una motivazione particolare ok si può rifare il giochino cambiando i numeri e otteniamo gli stessi risultati ma non solo quelle descrizioni i due numeri di sintesi erano uguali ma anche la correlazione tra x e y e in particolare erano legati da una regressione lineare che è uguale in cui y è uguale a tre volte x per 0,5 e ascombe è riuscito a trovare 4 di questi quartetti scusate 4 si chiamano quartetti proprio perché sono 4 di queste sequenze di coppie di numeri giusto per darvi un'idea questi sono i 4 valori y vedete hanno esattamente la stessa media la stessa varianza deviazione standard vedete che sono centrati nello stesso punto però i valori sono più o meno dispersi da una parte dall'altra ad esempio vedete che questi numeri sono tutti uno vicino all'altro tranne questo che è molto distante questi sono un po' più sparsi però c'è quest'altro numero qua vedete che gli outlier qui giocano un ruolo importante sulla media basta spostare l'outlier che subito la media cambia abbastanza questi sono solo le y se noi mettiamo assieme x e y delle 4 sequenze di coppie otteniamo questo quindi abbiamo un quartetto che è questo un altro che è questo un altro che è questo con questo outlier qui e un altro ancora che è questo con quest'altro outlier quindi stessa media e stessa varianza per entrambe x e y stesso coefficiente di correlazione stessa retta di regressione ma dati molto diversi la conclusione se volete è è sicuramente utile andare a calcolare degli indici sintetici quale dipende magari più di uno ma la regola fondamentale quando avete i vostri dati è guardarli guardando i numeri sintetici gli indicatori sintetici voi voi non sareste mai stati in grado di capire come sono fatti i dati quindi il primo passo fondamentale quando avete i dati a disposizione è andarli a vedere guardare usando un diagramma opportuno se abbiamo delle x e delle y e vogliamo andare a vedere la correlazione questi sono i diagrammi da utilizzare questi sono i valori delle mediane e della median absolute deviation vedete che sono leggermente diversi ma non tanto quindi anche da qui probabilmente non saremmo arrivati a immaginare una differenza così sostanziale nella forma dei nostri dati due parole sulla correlazione normalmente si usa correlazione o regressione in generale la correlazione è utilizzata quando abbiamo due variabili e vogliamo vedere come queste variano congiuntamente e non intendiamo presupporre nessuna relazione di causa effetto normalmente usiamo il termine regressione quando vogliamo andare a immaginare che una variabile dipendente sia legata o possa essere predetta tramite i valori di un'altra variabile detta indipendente e quindi qua immaginiamo una relazione di causa effetto per quanto riguarda le misure quantitative normalmente possiamo utilizzare vari tipi di regressione quella più semplice quella lineare con i valori predetti calcolati con i cui coefficienti sono calcolati con la regola dei minimi quadrati quindi ci danno sostanzialmente questa formula io una volta che ho la retta però vorrei avere anche un'informazione magari più sintetica su quanto fortemente queste due serie di valori sono legate tra di loro per cui oltre alla formula che mi dà il legame tra queste due variabili molto spesso voglio andare a calcolare anche quanto è forte la correlazione per cui molto spesso calcolo anche un indice di correlazione ce ne sono tanti quello più comunemente utilizzato è il coefficiente di Pearson che è un valore che varia tra 0 e 1 in valore assoluto in realtà tra meno 1 e più 1 e mi dice quanto fortemente queste due variabili sono correlate questo è per quanto riguarda le variabili continue se io ho delle variabili categoriche ordinali posso fare una regressione andare a calcolare il coefficiente di correlazione e capita molto spesso di avere variabili che non sono continue cosa faccio? beh vado a costruire quella che si chiama una tabella di contingenza vado cioè a calcolare le frequenze congiunte dei vari livelli dei vari possibili valori delle mie variabili in questo caso immaginiamo di avere due variabili 1 e 2 che hanno tre livelli low medium e high in cui vado a calcolare quanto spesso ho 2 low quanto spesso low medium quanto spesso low high eccetera eccetera a questo punto come faccio a capire se le mie due variabili sono correlate o meno in linea di principio se io ho queste due variabili che potrebbero anche essere ordinali e sono fortemente correlate quindi un valore basso di una corrisponde al valore basso dell'altra un valore alto corrisponde al valore alto ragionevolmente mi aspetterei di vedere i valori sulla diagonale molto più alti di quelli fuori dalla diagonale se alto di una mi corrisponde ad alto dell'altra questo valore qua sarà più alto di quelli che stanno fuori eccetera viceversa se le due variabili non sono correlate tra di loro mi aspetterei di vedere i valori sparsi in maniera sostanzialmente uniforme e casuale come faccio a fare questo ragionamento in termini matematici beh lo posso fare andando a calcolare quello che si chiama il coefficiente chi quadro di Pearson che è sostanzialmente una somma per ognuna delle possibili combinazioni per ognuna delle cede della nostra tabella di contingenza in cui facciamo la differenza tra il valore osservato cioè quello che abbiamo misurato noi nel nostro esperimento meno il valore atteso al quadrato diviso il valore atteso qual è il valore atteso il valore atteso è quello che mi aspetterei di trovare se i valori fossero distribuiti in maniera assolutamente casuale quindi se quei valori osservati sono molto vicini a quelli attesi ottengo un valore di chi quadro basso se i valori osservati sono molto diversi da quelli attesi ottengo un valore di chi quadro molto elevato quindi più è elevato il valore di chi quadro più ho una forte correlazione mi allontano molto da un legame casuale tra queste due variabili come faccio a calcolare il valore atteso non sono tutti valori uguali ve lo faccio vedere qua sul nostro esperimento di prima il totale di tutti questi valori qua che abbiamo visto nella nostra tabella è 81 se io dividessi per 4 otterrei circa 20 20 per ogni cella ma questo non funziona perché se noi andassimo a prendere solo informatici vedete che abbiamo 34 scusate 44 con 837 ve lo metto qua vi faccio la somma di questa colonna e la somma di quest'altra se però noi andiamo a considerare chi conosce l'HTML e chi non lo conosce vedete che c'è una forte differenza quindi se io andassimo ad aspettarmi un valore 20 qui e qui commetterei un grosso errore perché in generale nella popolazione studentesca del terzo anno c'è più gente che non conosce HTML di quello che la conosce quindi nell'andare a calcolare quelli che sono i valori attesi devo anche tenere in considerazione questa differenza questa che si chiama distribuzione marginale marginale perché in realtà sta al margine ok quindi in realtà io dovrei andare a inventarmi dei valori attesi qui e qui quindi per queste due celle una e una due in modo tale che la somma tra le due faccia comunque 13 ok in modo da rispettare quella che è la distribuzione generale nella popolazione tra chi conosce HTML e chi non lo conosce in maniera analoga la somma tra queste due celle dovrebbe restare 68 la somma tra queste dovrebbe restare 44 e la somma tra queste due dovrebbe restare 37 o un valore il più simile il più simile possibile a questi due ok quindi come faccio a calcolare il valore atteso il valore atteso di una cella è uguale alla marginale della riga per il marginale della colonna diviso n il numero totale di osservazioni ve lo faccio vedere sulla tabella di prima qui riproduco esattamente gli stessi valori qui dovrei avere il marginale della riga per scusate il marginale della colonna per il marginale della riga diviso il totale che potremmo andare a mettere qua 81 mi fa circa 7 qui dovrei andare a mettere il marginale della colonna per il marginale della riga diviso sempre il mio 81 e circa 6 qui dovrei andare a mettere questo per questo diviso sempre 81 e infine qui dovrei andare a mettere il marginale della colonna per il marginale della riga diviso il totale quindi 7 6 37 31 a questo punto cosa dovrei fare dovrei andare a prendere il quadrato delle differenze di delle celle che hanno la stessa posizione e fare la somma e successivamente dividerla per n a quel punto ottengo il valore chi quadro la domanda è come interpreto questo valore chi quadro lo interpreto andando a calcolare questo valore si chiama la c di Pearson calcolo chi quadro diviso chi quadro più n dove n è il numero di elementi di osservazioni totali questo valore c varia tra 0 e un valore c massimo che è uguale a radice quadrata di k meno 1 fratto k dove k è il minimo tra righe e colonne numero di righe e numero di colonne nel nostro caso le righe e le colonne sono uguali a 2 quindi radice quadrata di 2 meno 1 diviso 2 quindi cosa faccio? di solito di solito di solito questo c aggiustato che è uguale a c diviso c massimo massimo quindi quindi il nostro c adjusted potrà variare tra 0 e 1 a questo punto ho valori di 1 se ho il massimo della correlazione valori vicino a 0 se ho una correlazione bassa ovviamente questo è un modo poi esiste anche un'altra coefficiente che si chiama la b di Cramer giusto per citarvi due più famosi ok? quello che mi interessa andare a valutare è per l'appunto quanto sono fortemente correlati se io ho una tabella 2x2 ho un altro modo ancora normalmente io ho un trattamento e un risultato variabile indipendente e variabile dipendente quindi posso andare a vedere se una variabile ha un effetto sull'altra e questo posso andare a farlo facendo diverse misure ad esempio potrei andare a vedere quello che è il rapporto scusate quello che è il rapporto tra corretto e sbagliato nel caso in cui abbia il trattamento e corretto e sbagliato nel caso in cui non abbia il trattamento e fare il rapporto tra questi due rapporti nel caso specifico immaginiamo di supporre che il corso di studio abbia un effetto sul fatto che io abbia o meno una conoscenza dell'HTML il primo rapporto che è uguale a 7 su 31 e il secondo rapporto è uguale a 6 su 7 su 37 e 6 su 31 questi rapporti si chiamano odds si utilizzano anche nelle scommesse casi a favore diviso casi contro in realtà a me interessa valutare gli odds in un caso nel caso degli informatici rispetto agli odds nel caso dei non informatici quindi che cosa faccio? faccio il rapporto tra i due uguale a questo diviso questo quindi 1.19 questo si chiama odds ratio valori di odds ratio pari a 1 mi dicono che sostanzialmente la conoscenza dell'HTML è tanto probabile tra gli informatici quanto tra i non informatici se fosse esattamente 1 in questo caso è leggermente più grande di 1 e quindi la conoscenza dell'HTML è più alta tra gli informatici che tra i non informatici se io avessi se io avessi se io avessi un odds ratio di 2 vuol dire che questa conoscenza è il doppio tra i non informatici tra gli informatici rispetto ai non informatici se io avessi valori più piccoli di 1 ad esempio 0,5 avrei questo rapporto invertito quindi la probabilità di riconoscere l'HTML tra gli informatici sarebbe la metà rispetto a quella dei non informatici con un odds ratio di 0,5 questo è ancora un altro modo di quantificare la forza della correlazione tra due variabili in questo caso devono essere dicotomiche quindi l'odd ratio lo posso calcolare se sono delle variabili che hanno due possibili valori invece la VD Cramer e la C.D. Pearson li posso calcolare con qualunque numero di livelli delle mie variabili quindi riepilogando un primo modo di andare a prendere confidenza con i dati e cercare di sintetizzarli con indicatori sommari sostanzialmente la posizione o tendenza centrale e abbiamo visto menia, mediana, moda mid range la dispersione quindi quanto questi valori sono lontani dalla posizione centrale e quindi abbiamo visto il range piuttosto che la median absolute deviation la deviazione standard e questi mi danno alcune informazioni sui miei dati se io ho più dati molto spesso quello che voglio andare a descrivere è se esiste una qualche forma di correlazione e in funzione del tipo di dato se è puramente categorico o se è continuo posso utilizzare diverse tecniche da un coefficiente di correlazione di Pearson che posso applicare su valori continui a altre soluzioni come l'holz ratio piuttosto che i due coefficienti c e b che abbiamo visto prima questo è il primo passo per avere un'idea molto sintetica dei dati il passo successivo consiste nell'andare a visualizzare i dati perché finché noi non siamo in grado di visualizzare i dati non siamo in grado di capire come sono fatti e i quartetti di Hanscom dimostrano come degli indicatori sintetici non sono in grado di darci un'idea di come sono fatti i dati che formano a questo punto la domanda successiva è come faccio a visualizzare i dati la risposta è sfruttando i meccanismi percettivi in modo da ottimizzare il risultato della visualizzazione quali sono questi meccanismi percettivi li vedremo nella prossima lezione giovedì grazie a tutti grazie a tutti